La prima fondamentale, aurea regola che dovrebbe conoscere e seguire un direttore di gara è il buonsenso. Ciò che occorre, cioè per tenere in pugno una partita, anche e soprattutto in situazioni difficili. Ebbene la signora o signorina Vitulano di Livorno, chiamata ad arbitrare oggi Civita Novese Sant'Arcangelo, ha dimostrato in modo palese e pacchiano di ignorare questa buona norma. E non ci riferiamo tanto al gol che vediamo nelle immagini, annullato ai peroni di casa al novantesimo, che avrebbe regalato loro un pareggio insperato, visto la doppia inferiorità numerica. Quanto alle espulsioni di Rachini e Cucco, frutto di un'interpretazione del regolamento rigida sino alla paranoia, quando, in altre circostanze, si lasciava passare tutto o quasi. Oppure all'inesistente recupero nel finale di partita, dei quattro minuti segnalati ne sono stati effettuati soltanto due e mezzo. O dello sventolio, talvolta nevrotico di Cartellini, quando in campo tra i 22 giocatori di grande nervosismo non ne abbiamo visto. Non potevamo prescindere da queste considerazioni. Il pubblico si è risentito, la partita è stata troppo condizionata dall'arbitraggio, pur dando i giusti meriti ad un Sant'Arcangelo, che ha avuto la sola pecca di non averla chiusa prima. Sì, sì, la potevamo chiudere, così creavamo molto meno problemi anche all'arbitro e ai guardialini, però purtroppo non l'abbiamo chiuso, però fortunatamente siamo stati bravi a vincere. Non abbiamo creato praticamente niente, a loro non gli abbiamo concesso niente, a parte l'ultima, non so se era fuorigioco o non era fuorigioco, però era una punizione. Spassionatamente dell'arbitro, che giudizio dà? Ma sinceramente, l'ultimo episodio il guardialini dice che era gocce e non toccava la palla il 9, il 9 era in fuorigioco, lui era in linea, io non l'ho visto, quindi non è che posso giudicare. Poi l'arbitro è stato ben aiutato dai guardialini, perché secondo me le espulsioni ci potevano anche stare. Poche complessivamente le emozioni nel primo tempo. In avvio Gregorio perde il pallone in agguato Buonaventura dalla destra, crossa la soterra, ed il portiere Nardi che in qualche modo rimedia. Il Sant'Arcangelo esce dal guscio e si rende pericoloso con questo cross di Ambrosini ed il tiro di Tonelli ribattuto. Alla sedicesima sorpresa Romagnoli in vantaggio, talmente a sorpresa da cogliere impreparato il nostro operatore e la difesa rosso-blu, oltre a gran parte del pubblico. Rimessa laterale, battuta a sorpresa, Ambrosini liberissimo da due passi in sacca. È dura per la Civitanovese che stenta a sviluppare il suo gioco. Al diciannovesimo cross di Radoi, Paniccia, Smanaccia, poi rimedia. La reazione della formazione rosso-blu è tutta in questo tiro di Cotuan che termina fuori ed al trentaseesimo in questo contatto in area sul quale cade Rachini. L'arbitro, la signora o signorina Vitulano di Livorno, lo punisce con un giallo per simulazione. Il Sant'Arcangelo copertissimo chiude gli spazi e si va a riposo senza ulteriori sussulti. La ripresa si apre all'ottavo con una lunga rimessa del portiere Romagnolo Nardi. La palla arriva ad Ambrosini che lascia partire una staffilata che si stampa sulla traversa. Al dodicesimo la prima espulsione, Rachini, come visto già ammonito, becca il secondo giallo ancora per simulazione. La gente rumoreggia. Al ventiquattresimo stessa sorte a Cucco, Civitanovese in nove e la gara già complicata diventa praticamente i limiti dell'impossibile. Il Sant'Arcangelo sfiora il raddoppio in almeno un paio di circostanze clamorose. Al trentaseiesimo cross di Radoi, Varone viene contrato, Bordi si mola sulla linea a salvare il risultato su Ambrosini con Paniccia che si ritrova poi il pallone tra le mani. Al quarantesimo cross di Ambrosini davvero imprendibile, testa di Varone, grande William Bordi a salvare ancora. Prima dell'episodio che abbiamo già visto del novantesimo, punizione di Serrapica, testa di Marotta sul secondo palo, Osaghiere che è in sacca ma per l'assistente era in fuorigioco. Sublime beffa, vengono espulsi dalla panchina anche Gabriele Morganti ed il difensore Giuseppe Orlando. Per oggi, forse, meglio chiudere davvero qui.